La linea verde coltiva da sempre i valori di naturalità e freschezza, con l'intento di valorizzare le materie prime freschissime attraverso nuovi metodi di produzione, come per le nostre insalate, che vengono lavorate in un settore coibentato a temperatura e umidità controllate. Il processo di mondatura avviene a mano grazie a personale esperto. Ora le insalate sono pronte per essere lavate. Il lavaggio avviene in più cicli, solo con acqua potabile. Selettori ottici infrarossi per la cernita delle insalatine assicurano un alto standard qualitativo. Il processo di asciugatura avviene ad aria o a centrifuga. A seconda della tipologia di insalata. Una volta asciugata, l'insalata entra in un'area i-care delimitata, in cui si applica un processo di ionizzazione che garantisce una continua sanificazione dell'aria. Qui avvengono la pesatura e l'imbustamento. L'utilizzo dell'aria dedicata, le basse temperature e l'aria depurata sono tutti accorgimenti indispensabili per mantenere intatta la qualità dei nostri prodotti. Ogni confezione viene poi controllata da avanzati sistemi, che intercettano eventuali corpi estranei presenti. L'utilizzo di robot elettrici migliora il flusso di lavoro, dal confezionamento all'arrivo alla cella di carico, e permette controlli informatizzati frequenti e puntuali. La qualità dei prodotti è controllata in ogni fase, grazie a numerose analisi chimico-fisiche, microbiologiche e merceologiche. La velocità della lavorazione e il trasporto in appositi camion e refrigerati consentono di preservare il prodotto freschissimo dall'azienda alle piattaforme distributive e ai punti vendita. Per un'insalata pronta da gustare, come appena raccolta. Grazie a tutti.